Asilini di Comunaia è completo, la graduatoria stilata dal Comune ha avvagliato tutte le 335 domande per i 143 posti disponibili a Padova. Per ora sono stati assegnati 133 posti, gli altri verranno stabiliti in caso di ricorsi. Anche quest'anno per la seconda volta il criterio di residenzialità ha avuto un peso determinante per l'assegnazione dei posti nei 17 asilini di gestiti dal Comune di Padova. 15 punti per chi abita in città da 20 anni e punteggio gradualmente inferiore per chi vive da 15, 10 e 5 anni. Stesso regolamento che presto potrebbe essere applicato anche per le scuole materne, ma per questo secondo l'assessore Sodero bisogna attendere il 2017. Intanto ecco le indicazioni per le famiglie esclusi dalle graduatorie. Per quel che concerne i genitori che hanno posto, che hanno presentato domanda e che non hanno visto accolta la domanda, l'invito a presentarsi presso gli uffici di via Raggio di Sole che poi comunque il personale illustrerà loro le eventuali possibilità per i loro bimbi. Sono invece 16 le domande pervenute da fuori comune. In questo caso verrà tenuto conto del luogo in cui si trova il posto di lavoro dei genitori. Ricordo che i requisiti sono la residenza nel comune di Padova, però comunque verranno vagliate anche le domande da parte di famiglie non residenti nel caso di posti disponibili e nel caso di necessità lavorative documentate di almeno uno dei genitori.